Ciao, in questa lezione metteremo in pratica quanto hai appreso finora per realizzare un robot esploratore avanzato con uno scanner rotante. Resta fino a un fondo che ti farò vedere anche come aggiungere delle immagini sullo schermo del mattoncino. Il professor Mattoncini! Per questa lezione utilizzeremo ancora una volta la base motrice Spike Prime, di cui trovate le istruzioni nell'app oppure sul sito Lego Education. Poi realizzeremo lo scanner rotante montando il sensore di distanza sul motore grande. Ti mostro come. L'idea è piuttosto semplice. Il robot va dritto finché non vede un ostacolo e si ferma, come abbiamo visto in una lezione precedente. Stavolta, prima di svoltare o indietreggiare curvando, sempre dalla stessa parte oppure a caso, si guarderà intorno. Prima di svoltare girerà la testa a destra, poi a sinistra e deciderà qual è la zona più libera da ostacoli. In altri termini cosa farà? Si girerà a destra e misurerà la distanza, poi a sinistra e misurerà un'altra distanza. Poi confronterà queste distanze e deciderà che è meglio andare nella direzione in cui la distanza misurata è più grande, vuol dire che ci sono ostacoli più lontani e quindi è più interessante da esplorare. Quindi se hai fatto attenzione, viene fuori che dobbiamo ricordare qualcosa. Quindi dovremo usare le variabili. Quindi gli ingredienti per fare questa ricetta, i blocchi per questo programma, dovresti già conoscerli tutti, se mi hai seguito fino ad adesso. Se ti manca qualcosa o vuoi ripassare, ti metto in descrizione il link alla playlist con tutte le lezioni fatte finora, che sono davvero tante. Vediamo adesso come si implementa in Scratch quanto detto col linguaggio naturale. Per esercizio, prima di andare avanti, potresti voler scrivere il programma in pseudocodice. Come al solito impostiamo i motori di movimento, impostiamo quanta strada fa il robot con una rotazione delle ruote, per le ruote standard spike, impostiamo la velocità di movimento su 30%, che potete cambiare a piacere, e poi imposto l'accelerazione di movimento sul lento per avere manovre morbide. Per fare questo, io qui devo andare ad attivare l'estensione altri movimenti e qui vado a impostare questo blocco, imposta l'accelerazione del movimento su lento. Dopo questa configurazione iniziale, adesso andiamo a vedere cosa deve fare il robot. Quanto abbiamo detto, deve succedere per sempre, quindi intanto metto un ciclo per sempre. Il robot dovrà intanto guardare dritto, quindi userò questo blocco vai al percorso più corto, vai sul percorso più corto alla posizione 0, cioè il robot deve mettere lo scanner rivolto in avanti. Dopodiché avvierà il movimento per andare in avanti e continuerà così fino a quando il sensore di distanza non vedrà un ostacolo più vicino di 15 cm. Quando vedrà un ostacolo, arresterà il movimento. Arresta movimento. A questo punto il robot deve guardarsi intorno. Prenderò di nuovo il blocco vai a e girerò la testa da questa parte, verso sinistra, 270 gradi. Aspetto un po'. Perché aspetto un po'? Perché mentre sto ruotando il sensore, il sensore di distanza stesso potrebbe aver fatto delle misure. Io aspetto che questo movimento si sia stabilizzato, quindi 200 millisecondi, una frazione di secondo, ma quanto basta perché la lettura si stabilizzi e adesso dovrò salvare una variabile per ricordarmi quanta distanza ho visto dall'oggetto più vicino. Quindi creo una variabile, la posso chiamare D1, porta D1 a, quindi qui dentro ci salverò la distanza letta dal sensore. Quindi blocco reporter, distanza letta dal sensore in centimetri. Questo valore lo utilizzerò dopo per fare un confronto e sapere in che direzione spostarmi. Adesso io duplico questi blocchi, duplica, in realtà questo non mi serve. Io voglio spostare la testa, girarla dalla parte di là, opposta. Dico, 90 gradi. Di nuovo aspetto due secondi per lasciare la lettura stabilizzata. Adesso posso andare a leggere di nuovo la distanza letta dal sensore e confrontarla con quella letta in precedenza e decidere da che parte ruotare. È questione di scelta e quindi mi serve un blocco. Vedete, io sto cercando sempre di aiutarvi a trasformare il linguaggio naturale nel codice. Adesso confrontiamo la misura del sensore rivolto verso sinistra con quella di adesso, il sensore rivolto verso destra. Quindi tutte le volte che c'è un confronto ci sarà un operatore di confronto. Quindi se la distanza letta dal sensore a ultrasuoni sulla porta F in centimetri è maggiore di quella letta prima, quindi vado a leggere la variabile D1, ecco qua, allora che significa? Che se la distanza letta ora è maggiore io voglio andare in questa direzione, perché vuol dire che ci sono meno ostacoli. Quindi andrò qua, blocco in movimento, muovi a destra per, muovi a destra, però fisso su una ruota per meno mezza rotazione, ovvero un quarto di giro indietro, cioè mi sto spostando indietro verso destra. E qua mi sposterò indietro verso sinistra. Quindi mi allontano dall'ostacolo che ho visto di fronte nella direzione in cui voglio andare. Adesso potete giocare con i parametri cambiando quanto andare indietro o quanto volete che il robot vada velocemente in avanti nella sua esplorazione. Mi rendo conto in realtà che questo blocco in questo caso è abbastanza inutile. Ciao! E adesso aggiungiamo qualche immagine a condire il tutto per migliorare l'esperienza utente, User Experience UX. Ripartiamo da questo programma e aggiungiamo alcuni blocchi per attivare i pixel sul display a matrice. Vado nella tavolozza luce e scelgo il blocco attiva. Qui andrò a personalizzare queste immagini. Prima clicco qui per cancellare tutto e poi disegno la freccia che va in su. Una volta visualizzata sul mattoncino indicherà che sta andando in avanti. Poi ne creo un'altra. La aggiungo qua. E qui, quando il robot inizierà a fare la scansione dell'ambiente, vorrò visualizzare una specie di radar. Quindi disegnerò un cerchio. E qui riempirò con un'intensità più bassa. Ecco. Abbiamo quasi finito. Adesso aggiungeremo una freccia che va verso sinistra. Cancello e disegno la freccia. Ecco fatto. E qui disegnerò una freccia che va verso destra. Cancello e disegno la freccia. Vi mostro il programma intero. Proviamolo. Adesso vediamo come funziona anche in giro per la casa. Se mi hai seguito fino adesso ne abbiamo visti davvero tanti insieme. Ti sarai iscritto, spero. Avrai mi piaciato stroncato di colpi tutti i tasti tutte le volte che te l'ho detto. Ma forse ti sei anche abbonato perché se ti abboni hai accesso in anteprima a tutti i video e puoi anche vedere dei video in esclusiva che sono di nuovo tutorial di costruzione e programmazione di robot fatti con i Lego. Non perdere l'occasione di stroncare di colpi il tasto mi piace. Oh non perdete il prossimo video. Fino ad allora resta giovane, gioca a modino. Ciao.